O Eterno, al mattino tu ascolterai la mia voce, al mattino ti offrirò la mia preghiera, e aspetterò. E tu, tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sovressa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Il lupo e l'agnello pasceranno assieme, il leone mangerà la paglia come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere, non si farà più danno né guasto su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. Tutti i mostri pietoso verso il Pio, integro verso l'uomo, integro, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele, l'Eterno è la mia rocca e la mia fortezza e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui io mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto. E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse, Io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E ho detto in cuor mio, il Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché ve un tempo per il giudizio di qualsivogliazione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Poiché Egli mi nasconderà nella Sua tenda nel giorno dell'avversità, m'occulterà nel luogo più segreto del Suo padiglione, mi leverà in alto sopra una roccia. O Dio, Tu sei lì Dio mio, io Ti cerco dall'alba, l'anima mia è assetata di Te, la mia carne Ti brama in una terra arrida che langue senz'acqua. Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella solitudine, poiché io spanderò delle acque sul suolo assetato e dei ruscelli sulla terra arrida. Spanderò il mio spirito sulla Tua progenie e la mia benedizione sui Tuoi rampolli. poiché le perfezioni invisibili di Lui, la Sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere Sue. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi e vò costituiti percandiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Grazie a tutti.